Come fa il cane, il gatto, la tenera, la buca, la rana, la pebola e il coccodrillo, il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sta, si dici e manchi troppo, non metta me il capotto, che corrida e tibunga, è molto spesso pianga, però come tranquillo come fa, il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sta, si aggrava, si aggrava, non strilla, non c'è nessuno che lo sta, non c'è nessuno che lo sta, si aggrava, non c'è nessuno che lo sta, guardo sui giornali, non c'è scritto niente, sembra che il problema non infatti alla gente, se per casa quando c'è qualcuno che lo sta, la mia domanda ancora questa, il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sta, si dici e manchi troppo, non metta me il capotto, che corrida e tibunga, è molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa il tuo coccodrillo, il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sta, si aggrava, si aggrava, non strilla, sotteggia da mamilla, e mezzo assormentato se ne va, adesso ripetiamo se vogliamo ricordare, come fanno per parlare tra di loro gli animali, come fa il cane, E il gatto, la tinello, la muffa, la rana, la pecula, e il coccodrillo, e il coccodrillo. Il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sa. Alguien sta lei la, che buona.